Pian piano Ce la fate pian piano a girarvi e tornare verso di me? Sì, sì, faccio dubbio Pian piano Quindi due anni fa questo paziente ha subito un ictus cerebrale e questi sono gli esiti di piede equino, varo e supinato girato verso l'interno e quindi questa è la tipica andatura del piede che ha sofferto l'ictus